Buon salve a tutti e benvenuti a questo riassunto dello Star Citizen Live del 3 maggio che aveva come ospite d'onore Todd Papi e senza tanto cincischiare, vediamo di passare subito alle notizie perché sono innumerevoli e quindi non vogliamo fare un video di 40 minuti, per foro Innanzitutto si è parlato del VoIP che devono migliorarlo attualmente presenta qualche problematica, come anche il VoIP ma ci stanno lavorando e dei miglioramenti sono in arrivo per la 3.6 Personalmente Papi preferisce usare la chat testuale con chi non lo conosce ma questa è al massimo una curiosità, ne ha parlato giusto per deviare un po' l'attenzione sulla scarsità di informazioni probabilmente che aveva sull'argomento La condivisione invece delle missioni non arriverà per la 3.6 Tuttavia, più che Papi, è Tony Zurovec ad essere più informato riguardo a questa feature perché rientra nella sua sfera di competenza In ogni caso comunque non arriverà per la 3.6 perché devo ancora sistemare alcune cose prima di poter implementare questa feature Anche le altre varie domande sullo system, sul sistema di leggi ricadono su Tony Z e non su Papi che conosce gli obiettivi a lungo termine ma non sa precisamente cosa sarà pronto per la 3.6 Pur non sapendo cosa finirà per la 3.6 si è comunque parlato dello system Attualmente stanno ragionando per sistemi solari per quanto riguarda le leggi ovvero inserire delle leggi globali per il sistema e poi in alcune zone aggiungere e rimuovere le leggi Attualmente stanno ragionando su casi limiti su dei casi limite se entri in collisione con un'altra nave che è un'infrazione viola una legge e se lo è se viola una legge quanto è grave questa cosa? Allo stesso modo stanno cercando di creare un sistema per identificare la merce illegale da quella legale tenendo conto che in un luogo in un luogo alcune merci potrebbero essere legali mentre in altri non esserlo a quel punto l'IA deve rendersi conto di cosa è legale e cosa no esempio una nave della UE si ferma mentre sta trasportando Rideau inizia a scannerizzare e a quel punto si deve rendere conto di cosa sta trasportando rendersi conto se la Rideau è lecita o non è lecita e intervenire in maniera adeguata in caso una volta che tutto questo è stato fatto cioè ovvero portare eventualmente all'arresto qualunque cosa sia prevista a livello di gameplay del criminale in caso sia illecito oppure lasciare andare in caso non sia illecito si è parlato poi del tempo in quantum travel il problema del quantum travel è che dipende dalla nave in cui ti trovi navi grandi hanno zone di interesse interne alla nave cosa che permette al pilota di allontanarsi e fare altro il problema è che navi piccole non hanno questo lusso tra virgolette e stanno ragionando su possibili soluzioni per papi una soluzione sarebbe quella di dare informazioni su possibili avvenimenti nelle vicinanze tipo navi nave NPC viene attaccata flotta UEE sta passando anomalia 300 km di distanza lui non ha fatto proprio questi esempi ma ha fatto intende zone di interesse come in altri in altri RPG se vogliamo o comunque open world dove se tu fai un viaggio rapido può succedere che ti imbatti in in incontri casuali diciamo e dare la possibilità e dunque dare poi la possibilità al giocatore di interrompere il proprio il proprio viaggio per partecipare o essere spettatore di tali eventi papi è contrario però all'idea di ridurre semplicemente il tempo in quantum travel perché lo ritiene dannoso per il gioco in quanto renderebbe meno probabile l'interdizione perché darebbe minor valore al viaggio in ogni caso non intendo cambiare il quantum per il momento discorso diverso invece per il jump point dove ci sarà un ruolo molto più attivo per il pilota ma per il momento chiaramente non abbiamo nulla a riguardo non abbiamo ulteriori informazioni se non quelle di vecchia data poi si è parlato della restable entity spawning che tra l'altro recentemente c'è stato la tv si la tv l'inside star citizen a riguardo che è la tecnologia che aveva parlato appunto 6 sarà tuttavia un po' acerba praticamente a livello pratico servirà per alberi, piante, tesori, germe qualsiasi cosa potenzialmente la tecnologia farà sì che questi elementi possono comparire in zone più o meno determinate o randomiche a seconda probabilmente delle impostazioni del design e che si possono raccogliere questi oggetti e inserire all'interno di un inventario personale una prima implementazione dunque sarà più o più ridotta più per testing e solo dopo programma migliorato e la tecnologia verrà implementata nel gioco in maniera massiccia OCS server side è una priorità anche se non è presente nella roadmap anzi parte dei ritardi sono dovuti probabilmente dal fatto che stanno mettendo moltissime risorse per finire questa tecnologia e che è fondamentale sia per il server mesh che per scuola 42 loro hanno detto più che altro che è una tecnologia che occupa tutti quanti come lo è anche l'OCS normale e quindi sostanzialmente devono spostare alcune risorse o meglio devo dedicarci alcune risorse di team esterni e probabilmente questo ha comportato dei ritardi non sono presenti nella roadmap neanche delle altre sorprese che arriveranno in futuro su cosa siano queste sorprese possiamo teorizzare alcune cose cioè abbiamo visto diversi prototipi nel corso degli ultimi mesi in particolar modo quello più interessante è stato quello delle caverne potrebbe non essere tra queste sorprese però visto che non se ne è parlato più e probabilmente comunque con la tecnologia sono andate un po' avanti ci sta anche che possano arrivare più in là queste caverne come sorpresa poi il nuovo sistema di scudi riprenderà la forma della nave dunque visivamente sarà molto più piccolo rispetto a quello che è attualmente questo rispecchia poi la realtà del gioco perché lo scudo si attiva solo se il colpo raggiunge la nave a prescindere dalla grandezza dello scudo poi si è si è parlato dell'effetto pellicola che è stato aggiunto solo render to texture l'idea ovvero l'hanno messo perché voglio che che maschere un po' l'effetto pop up ci stanno lavorando è solo un po' è temporanea come soluzione probabilmente chiaramente il focus è su render to texture sulle com calls sulle videochiamate presenti quando fate le missioni c'è molto su squadron 42 quindi devono risolverlo per forza e su altri elementi che comunque attualmente sono prioritari proprio probabilmente in previsione di squadron 42 intendo aumentare ancora la possibilità di guadagnare alfa o ec in gioco intendo anche sistemare le missioni e ribilanciarle quindi ragioneranno per non soltanto aumentare i profitti ma probabilmente renderle anche un po' più impegnative almeno alcune di queste quelle che renderanno più soldi saranno più saranno un po' più complesse da fare probabilmente sperando che ovviamente non siano buggate ecco che è uno dei grossi problemi dell'attuale alfa HOD attualmente ci sono 5-7 livelli di HOD stanno lavorando sul cercare di ridurre la quantità di elementi dell'HD per dare le cose essenziali allo stesso modo stanno cercando di far sì che differenti caschi diano informazioni diverse a seconda del tipo un casco da pilota esploratore magari permetterà di conoscere la temperatura mentre un da combattimento darà un HD molto più darà nell'HD molte più informazioni sulle armi per il momento stanno lavorando affinché non si sovrapponga l'HD nei vari stradi come attualmente succede purtroppo e poi ragioneranno sulla personazione delle navi produttori e altro eccetera eccetera tuttavia vi ricordo che la modifica dell'HD è stata spostata dalla 3.6 alla 3.7 probabilmente perché si è rivelato più difficoltoso del previsto se è parlato lo spawn iniziale l'idea a lungo termine è che il giocatore possa scegliere il proprio punto di spawn iniziale a quel punto se vorrà andarsene potrà farlo ma dovrà parare l'abitazione l'hotel lo spawn in altri luoghi praticamente per il momento comunque l'attuale meccanica è accettabile per permettere loro di concentrarsi sulle altre questioni sostanzialmente quello di cui abbiamo detto adesso che scegli lo spawn iniziale poi se te ne vuoi andare comunque devi parare la loggia quello che è arriverà molto più avanti oggetti raccogliibili 2.0 sostanzialmente un po' di pulizia del codice e qualche miglioramento la rimozione dell'elmo ovvero del casco la selezione delle motte e altre cose vanno tutte nel personal inner fault menu che a livello di codice è pronto ma non a livello di UI tuttavia probabilmente perché il team che oggi si occupa appunto della user interface dell'interfaccia è super a carico piano di cosa fare non arriverà questa cosa per 3.6 accessori per le armi ci sono 4 punti di personalizzazione di base ottica, canna, sottocanna e caricatori a questo punto arriveranno anche modifiche che cambiano le statistiche dell'arma come il tempo di ricarica la presa sull'arma il rinculo e cose di questo tipo attualmente è work in progress il problema qui è che le statistiche dell'arma sono tutte in un file xml e ovviamente possono essere modificate devono essere modificate attualmente manualmente devono creare il sistema per far sì che il giocatore possa modificare questi parametri in gioco che è un po' più complesso il noleggio delle navi stanno lavorando sui casi limite come cosa succede se il tempo scade e hai del cargo a bordo non si parla di noleggiare la propria nave ovviamente agli altri cioè è un noleggio che uno fa pagando il gioco tra virgolette con alfa web comunità di gioco e tu ti ritrovi la nave per tutto tempo fine il multitool richiede che il sistema di accessori funzioni per funzionare a sua volta per essere un multitool che funzioni per diversi scopi intendo migliorare la schermata in cui si accettano le missioni in modo da rendere più chiaro dove andare cosa fare e cose così elementi necessari per completare la missione perché è inutile che fai una missione se poi ti serve una prospector giusto prenderne una oppure che ti serve il cargo posso prendere il cargo prenderne un'altra va bene misfire fare cilecca ovvero l'idea è che all'inizio ci sia una bassa percentuale di misfire e poi pian piano che il componente si degrada ci sia più possibilità di misfire di fare cilecca sostanzialmente le riparazioni non ripareranno al 100% il componente ma intendono ridurre il livello di degradazione del componente senza mai andare oltre una certa soglia non potete mai portare il componente al 100% di riparazione semplicemente riparandolo è impossibile intendono assicurarsi che ci siano feedback sullo stato dei componenti in modo che il giocatore sappia cosa sta accadendo e perché l'arma non colpisce o quel componente non sta funzionando come dovrebbe hanno anche aggiunto poi dei dettagli sul fatto che non ripareranno al 100% il componente l'idea è che sostanzialmente più uno maltratti il componente non passi tempo a ripararlo eccetera eccetera più diventerà difficile ripararlo sopra una certa soglia e quindi se uno fa scendere il componente al 40% magari più del 60% riesce a farlo risalire mentre se uno lo ripara quando è al 60% magari riesce a riportarlo al 75% sostanzialmente le riparazioni fino a un certo livello potranno andare avanti per permettere poi di incentivare un cambio di componenti successivamente probabilmente il piano è quello stanno lavorando per migliorare l'esperienza dal cockpit luce, effetti oppure appunto elementi che possono intendere che è un danneggiamento alla nave quindi scintille o qualcosa di questo tipo safe zone è l'obiettivo di rimuovere queste zone in futuro le safe zone sono quelle zone che ti impediscono che ti impediscono di rimuovere l'arma o meglio di estrarre l'arma e di utilizzarla nei vari landing come può essere Olisar come può essere l'Orville come può essere mining post più o meno grandi all'interno delle lune sulla superficie delle lune e l'obiettivo appunto è quello di rimuovere queste zone in futuro per arrivare a quel punto ci devono essere ci deve essere un loro sistema funzionante un sistema di leggi funzionante l'idea di sicurezza deve funzionare a dovere con relativi arresti punizioni multe al contrario le no flight zone rimarranno in quanto sono fondamentali per impedire alla gente di sparare missili o munizioni o l'assare sulla gente di sotto cioè se vuoi trollare tra virgolette senza no flight zone sarebbe abbastanza facile perché prendi la nave la schianti contro il centro abitato ops e quindi le no flight zone servono proprio a evitare questo caso che altrimenti non trova di difficile è di difficile soluzione insomma perché deve essere reattivo al 100% non deve lasciare possibilità all'utente di riuscire a trollare riuscire a danneggiare l'esperienza di coloro che sono di sotto comunque per le no flight zone non hanno ancora totalmente finito perché ci sono elementi del design originale che sono ancora mancanti e dunque devono rifinire il tutto quanto anche l'auto pilot landing da una maggiore resistenza è una cosa di cui non hanno distrusso internamente ma è un'idea vedranno se eventualmente portarla avanti la cosa che secondo Todd Papi ha bisogno di più rifinitura nella 3.5 è il combattimento è il combattimento sia FPS che tra navi e ha ragione in ogni caso rilasciare una nuova patch ogni 3 mesi è stato molto buono sia per la community che per il team di sviluppo cosa che ha migliorato comunque enormemente il morale e con questo abbiamo concluso questa questo riassuntone di questo di questa puntata qui a Marco Sarto scusate se ci ho messo tanto ma c'erano tante tante informazioni da dire cosa da dire e ci vediamo sperando al prossimo 42 o al prossimo video ciao a tutti